E salve a tutti ragazzi, eccoci qui tornati con un nuovo episodio di Resident Evil 4 Remake E niente, oggi andremo avanti da dove ce l'avamo lasciati nell'episodio precedente Vi ringrazio sempre per il supporto che ci state dando, per i like, per il tempo di visualizzazione Guardate anche i canali che vi metto sotto in descrizione E niente, adesso andiamo avanti, vando alle ciance Allora, dovremmo essere arrivati, se non erro Credo la boss fight con Salazar, quindi Ok, sono finiti Vediamo eh, se mi ricordo bene Eh ma questa è dura ragazzi E così ti ho consegnato ragazza come promesso Dì al nostro signore di non dimenticare la fedeltà del suo servo Ramon Certo, nel naboleone Eh eh, mo' è un problema Che stolto, signor Kennedy Aver ricevuto in dono la grazia di Lord Salazar Tu parli troppo Eppure non riuscire a Ok Secondo me non hai fatto una cosa buona Permettimi di mostrarti Il potere che mi ha conferito il mio padrone Un potere divino Ecco Sgalza il separio All'ultimo arco È un boss of cavoli raga Allora, vediamo Lasciami fuori dal tuo copione di merda Vediamo eh, se riusciamo ma Ho i miei dubbi Ho i miei Che cavolo è? Ma che cavolo tira? Questo non me lo ricordavo Ok Allora, vediamo Devo capire Dove colpirlo Eh, che cavolo No No Me devo allontanar Ok Sì, sì, sì Quello che ti pare Dove stai? Eh, perché si deve aprire ragazzi Diciamo che questo è il metodo più veloce Scusate ragazzi ma Non si può Perfetto Metodo rapido Indolore Perfetto Andato anche questo So che A livello Di bellezza Della boss fight Diciamo che Se ne va tanto a perdere Però Raga Non si può Ok Allora direi che Per questo video Ci fermiamo qui Come al solito Vi invito a iscrivervi al canale A lasciare un bel like A commentare A condividere A attivare la campanina De notifiche Non perdervi Gli altri video E supportare Serie E canale Aiutateci col tempo Di visualizzazione Guardate anche i canali Che vi lascio sotto In descrizione Che portano gaming Andate anche lì Date un'occhiata Sono molto bravi E noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti